9 arresti di cui 7 giovani in carcere e 2 domiciliari, 100 suntori di droga identificati di cui 20 minorenni, 15 persone denunciate in stato di libertà, sequestrati oltre 2 kg di marijuana e circa 200 grammi di cocaina. Questo il bilancio della lunga attività d'indagine iniziata a febbraio 2014 e conclusa ieri dai carabinieri di Urbino. L'attività nasce proprio da una segnalazione che è stata effettuata da un cittadino ai militari della liquota operativa. Gli arresti invece quando sono accaduti? Gli arresti sono avvenuti alle 5 di ieri mattina sia nella provincia e 4 arresti invece sono avvenuti tra le province di Savona, Taranto, siamo andati anche nel territorio di Fasano, nella provincia di Teramo. Denominato operazione Mozzicone per il nomignolo con cui si chiamavano i protagonisti ha portato all'arresto di un macedone, un ucraino, 5 albanesi e 2 italiani. Si tratta di Martin Merolli, 23enne, giocatore dell'Urbania Calcio, il cugino e connazionale Erandi Cano, 26enne disoccupato ma con lobby dello spaccio a Cagli, Ali Zeiri, 25enne macedone, il custode nel garage di casa della sostanza stupefacente. Inoltre Giuseppe Baratto, detto il calvo, di 36 anni, residente a Fermignano ma arrestato a Taranto, città d'origine, dove svolgeva l'attività di pescatore. Bruno Xaiza, 26enne albanese, residente a Mondavio. Xevair Domi, 24enne albanese, proveniente da Savona ma stabilitosi a Cagli. Murat Spanesci, cittadino albanese di 24 anni. Giovanni Olimpo, 27enne, residente a Fermignano. E Mikhailo Bazyuk, 21enne, cittadino ucraino, non nuovo alla cronaca per aver accoltellato un ragazzo fuori da un pub di Fossombrone. Personaggi incensurati oppure già conosciuti alle forze dell'ordine? Pochissimi erano incensurati, la maggior parte erano già conosciute a noi forze dell'ordine per avere già precedenti specifici proprio nel perspaccio, detenzione spaccio di sostanze stupefacenti, ma vi sono anche due che sono conosciuti alle forze di polizia perché hanno perpetrato reati contro la persona, quindi parliamo di lesioni. I nove che si spostavano con i mezzi pubblici avevano ben studiato i nascondigli per le dosi. Infilavano la polvere bianca, incelofanata, all'interno delle fessure degli asciugamani elettrici nei bar di Urbagna, Fermignano e Cagli, a insaputa dei titolari. Mettevano la droga negli incavi naturali dei tronchi di alberi, ma anche nei rami alti dove la chioma era più fitta, per sfuggire così al controllo dei cani cinofili. Poi inviavano gli acquirenti a ritirare le bustine o gli ovuli pronti. La clientela andava dagli imprenditori edili e commercianti agli operai e la consegna veniva anche a domicilio, quindi nei negozi o nelle banche, come è accaduto a Cagli, dove un impiegato richiedeva droga di vario tipo. Se l'assuntore poi non pagava, allora scattavano furti di denaro e vere e proprie estorsioni.